Abbiamo parlato dell'oligoidramnios, parliamo del polidramnios adesso. Il principio è sempre lo stesso, vedete che c'è una enorme variabilità e normalmente si può arrivare fino a due litri di liquido nel terzo trimestre di gravidanza. Grosso modo, questo è l'andamento della massima falda e quasi tutti pensano che dovrebbe essere meno di 8 cm. In qualsiasi momento della gravidanza. Se si usa la massima falda, questa è la soglia più comunemente raccomandata, però a differenza dell'oligoidramnios, la visione generale è che per il polidramnios è meglio l'affi. Perché è meglio l'affi? Perché rappresenta di più il volume totale del liquido che c'è. Perché è una cosa se c'è una sola falda di 8 cm, e c'è l'altra parte, o ci sono quattro falde di 8 cm. Quindi per l'oligoidramnios sarebbe meglio la singola falda, è più conveniente. Per il polidramnios sarebbe meglio l'indice di liquido amniotico e probabilmente 25 è una soglia ragionevole per definire un eccessivo aumento di liquido amniotico, che è un valore discretamente superiore alla norma, ma tiene conto del fatto che c'è una grossa variabilità. Queste forse vi converebbe segnalvele, perché sono un po' uno standard adesso. La gestione di questi casi dipende molto dalla gravità del polidramnios e in letteratura si fa riferimento a queste soglie. È lieve, come vedete, il polidramnios, se la falda è da 8 a 11 cm, ma è meglio usare l'affi, cioè se l'affi è tra 25 e 30. È moderato tra 30 e 35 ed è sicuramente severo se è più di 35. Vedete che nella maggioranza dei casi naturalmente sono lievi aumenti del liquido amniotico, però il 15% possono essere piuttosto severi. Qual è la causa del polidramnios? Il polidramnios può essere idiopatico, però attenzione, la probabilità che ci sia una patologia sottostante è piuttosto alta. Cioè, se facciamo il confronto con l'oligoidramnios, l'oligoidramnios, nella più comune delle situazioni, è la conseguenza di una insufficienza placentale, in qualche modo, che è una patologia comunque transitoria. Il polidramnios invece spesso si accompagna a delle problematiche di natura malformativa e genetica. Può essere idiopatico, ma molto spesso c'è al di sotto una causa patologica. Come abbiamo detto prima, il volume di quell'amniotico dipende dal bilancio tra quello che entra e quello che esce, quindi tu puoi avere un polidramnio sia se hai un'aumentata produzione di urina che se hai un diminuito turnover. Le ragioni che possono portare più comunemente a una poliuria eccessiva, un'eccessiva produzione di urina, sono la macrosomia e l'iperglicemia. L'ipervolemia fetale, di cui mi viene in mente come principale entità soprattutto la trasfusione feto-fetale, che è una trasfusione feto-fetale di uno dei due effetti, è ipervolemico e poi anche policitemico. E poi, e questa è una forse delle condizioni più comuni, circolo iperdinamico, cioè quando c'è un'anomalia cardiocircolatoria, fetale o placentale, entrambe le cose. Il turnover, invece, ne abbiamo già parlato, ridotto assorbimento di liquido almenotico da parte del feto, ridotto metabolismo di liquido almenotico da parte del feto, o anche delle ostruzioni di altra natura, masse toraciche, ipoplasia toracica, e soprattutto questa entità, che ha ricevuto notevole interesse ultimamente anche nella letteratura di alipatale, che si chiama l'ipotonia fetale. C'è un rapporto tra macrosomia, più grande il bambino, maggiore la produzione urinaria, c'è un rapporto con il diabete, però in linea di massima, un polidramnios cospicuo, un polidramnios moderato, si vede soltanto nei casi di diabete scompensato. È molto raro che in un diabete, anche con una macrosomia significativa, ci sia un enorme aumento del liquido amniotico. Questa è una cosa che tu vedi soltanto in quei casi che 30 anni fa vedevamo abbastanza spesso, perché le pazienti erano poco controllate. Poi sono un po' sparite, adesso stanno cominciando a tornare, perché abbiamo delle popolazioni che hanno delle abitudini alimentari tali, per cui sono tutte diabetiche, e sono abitudini alimentari così inveterate che non riusciamo a modificare, quindi sviluppo dei diabeti che sono piuttosto gravi, che sono piuttosto che seguono molto poco, e quindi hai queste gigantesche macrosomie, ma in linea di massima, se c'è un diabete con un enorme aumento del liquido amniotico, è una situazione estremamente pericolosa. Sono ovvero quei casi in cui tu hai un controllo metabolico così scarso, e hai un feto così grosso, che effettivamente il rischio di una complicazione, anche di una morte endoterina, è davvero tangibile. Trasfusioni fetofetali vale la pena la pena parlarne, è una cosa che è molto nota, quella che vi faccio vedere qui, è un'antica immagine che ho fatto io con un contact scanner, cioè quando noi facevamo l'ecografia muovendo la sonda sull'addome con un pantografo, però è l'unico modo per rappresentare tutto quanto l'utero, questo è un utero che vedete grande come una gravidanza termine, e dentro ci sono due feti, uno dei quali, come potete immaginare, è fisso perché è attaccato alla parete dell'utero. Non era l'ecografia in realtà, si chiamava compound. Compound scanner, sì. Forse non sapete come funziona, nasce così, cioè c'è un gigantesco pantografo che veniva fatto ruotare attorno al letto della paziente con un braccio mobile che registrava la posizione e tu lo muovevi sopra l'addome della paziente in questo modo creando la scansione. Così nasce. Quando arrivò la prima real time, io in effetti arrivai in clinica ostetrica che era stata appena comprata il primo real time, che non aveva il frizz, cioè non si poteva fermare, non aveva la macchina fotografica. Però era assolutamente affascinante la ragione per cui mi sono fermato. Io non me l'ho ancora nato, me l'ho ancora nato. Perché la tecnologia, eh sì. No, ma io sono andato in clinica per fare la tesi nel 1979. Quindi si facevano le ecografie per fare le immagini belle col contact scanner perché insomma venivano bene. E invece per guardare con questo piccolo aloca, minuscolo, che aveva questo schermo, però si vedeva il feto che si muoveva, il battito dentro era straordinario. Circo del iperdinamico. Beh, questa è una possibilità che va sempre considerata tutte le volte che c'è un eccesso di liquido amniotico. Il circolo iperdinamico può essere la conseguenza di diverse situazioni, però ha un elemento abbastanza caratteristico, e cioè l'aumento del lavoro cardiaco. Il cuore diventa più grande perché aumenta la gettata cardiaca come risposta e con le macchine che abbiamo adesso ci siamo accorti che praticamente sempre in questi casi quando c'è una significativa cardiomegalia si vede, vedete, un'insufficienza tricuspidale e anche mitra, vedete? Da due le parti, è molto chiaro. Ecco, polidramnios, un cuore grande, vedete che è molto grande questo cuore qua, il rapporto toraceo è più dello 0,30. dilatato con un'insufficienza tricuspidale e mitralica di tutte e due le valvole atriventricolari è fortemente sospetto per un circolo iperdinamico legato probabilmente a qualche circolo patologico, a qualche sciante da qualche parte. Come in questo caso, vedete, ancora più grande, mano a mano che si va avanti, questa è una situazione ancora più compromessa, il cuore è ancora più grande, e qui l'insufficienza tricuspidale, siccome l'anello valvolare si è sfiancato ulteriormente, è diventata ancora più cospicua, vedete che c'è un'insufficienza telediastorica. Ecco, se c'è una situazione come questa, è ragionevole andare a cercare se da qualche parte nel feto ci sia qualche sciante arterovenoso, qualche malformazione arterovenosa. Una delle cose più comuni è per esempio un aneurisma dell'arena di Galeno, una malformazione arterovenosa cerebrale. Questa produce sempre nel terzo trimestre, nella nostra esperienza, se si vede in epoca prenatale, una grave compromissione con una cospicua cardiomegalia fino al livello dell'idrope. Vedete l'entità della portata di questo circolo patologico. Un'altra possibilità, e questo è più difficile da dimostrare, sono dei circoli intrapatici patologici, ne abbiamo visti di diversi tipi. Adesso questa non è proprio una malformazione arterovenosa, ma è qualche cosa di simile, è venovenosa. Cioè, quello che succede è che c'è un bypass, in questo caso intrapatico, tra la vena umbilicale e la vena cava inferiore, i ritorni venosi principali. Normalmente, voi sapete che circa il 30% della portata del sangue che arriva con la vena umbilicale, viene distribuita direttamente al fegato. Per delle ragioni che non sono chiare, però il fegato è praticamente l'unico organo che riceve sangue completamente ossigenato. Tutti gli altri organi ricevono un sangue misto, in qualche modo, ma il fegato viene irrorato direttamente, evidentemente è un organo che nel corso vitrofetale ha una funzione fondamentale, direttamente. Se c'è un bypass, questo vuol dire che è una grossa quota del sangue che normalmente viene mandato al fegato, va invece direttamente al cuore. Questo aumenta il precarico e questo aumento del precarico aumenta il lavoro cardiaco. Lo vedete abbastanza bene anche qua, vedetela ricostruito. Questo qui, questo anello qua, è lo shant intrepatico.